Buonasera e benvenuti alla nostra edizione del telegiornale un'edizione un po' speciale perché oggi in apertura parliamo di eh calcio intanto perché avete seguito il novantunesimo minuto in cui eh vi abbiamo raccontato anche con i commenti la partita del Bari a Castovillari finita come sapete per uno a uno ma anche perché è l'occasione per parlare del di Radio Bari Radio Bari che diventa la radio ufficiale eh della società Biancorossa per i prossimi tre anni e proprio domani ci sarà la conferenza stampa che illustrerà i dettagli di questo accordo. Ovviamente ne parliamo con il responsabile della redazione sportiva Enzo Tamborra. Ciao Enzo Buonasera. 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 Pensavamo di presentare l'accordo con la vittoria invece dobbiamo accontentarci di un pareggio non sempre si può vincere eh sono sette vittorie e tre pareggi diciamo che il ruolino di marcia è abbondante e sufficiente per eh salire di categoria peccato però per l'occasione persa perché oggi la Lucerina ha pareggiato il Bari mh vincendo andava a sette punti di vantaggio che mi sembra già mi sembrava già un vantaggio cospicuo invece insomma bisogna fare attenzione alle squadre che abbiamo le spalle. Sembra un accordo naturale no? Quello di Radio Bari con la società la SSC Bari perché intanto come direi riflette anche la storia del nostro gruppo la storia di eh Radio Bari e la storia della passione bianco rossa no? Assolutamente perché eh telebari da una vita il gruppo telebari da una vita segue il Bari e ha cominciato a seguirlo proprio sui campi dove il Bari va a giocare attualmente. Io ricordo ero ragazzino all'epoca avevo meno di dieci anni e seguivo le partite in tv mi sembrava davvero un sogno poter vedere il Bari in serie C sul campo di Torre del Greco piuttosto che il campo di Noceri Inferiore piuttosto che da Cireale. Addirittura ricordo che i cronisti eh non erano neanche autorizzati ad entrare all'interno dello stadio perché all'epoca eravamo veramente considerati dei clandestini e eh era necessario eh pagare eh l'ospitalità alla signora che abitava di fronte allo stadio con le telecamere puntate verso verso il basso. Mi ricordo che non si riusciva a vedere ad esempio il calcio d'angolo perché il balcone era schiacciato praticamente sul terreno di gioco. Quindi diciamo siamo stati pionieri della telecronaca eh a Bari eh adesso siamo di nuovo eh in una posizione particolare di diciamo in pole position accanto al Bari in un momento di grande difficoltà. È un progetto di lungo respiro perché ricordiamo che questo accordo vale per i prossimi tre anni quindi a partire da ora e eh ricordiamo che sarà Radio Bari chiaramente protagonista insieme al gruppo Telebari saranno protagonisti però tutti i cittadini che potranno eh come dire attraverso la nostra emittente attraverso i nostri canali social attraverso il nostro sito essere aggiornati in tempo reali anche con delle esclusive perché questo è quello che prevede l'accordo. Sì eh innanzitutto ehm non verremo mai eh meno al ruolo di eh megafono dei tifosi del del Bari perché io continuo a dire Telebari eh e Radio Bari eh da quando ci sono io ma non solo anche prima eh sono state sempre la TV e la radio dei tifosi del Bari. Ora eh a questa prerogativa abbiamo aggiunto il fatto di essere anche la radio ufficiale del del Bari eh andremo di comune accordo di pari passo cercheremo di eh abbattere completamente le distanze fra tifoseria eh e squadra tra tifoseria e società perché per noi eh la funzione principale è quella di informare i tifosi biancorossi quindi lo faremo in maniera molto più particolareggiata avendo evidentemente un rapporto una corsia preferenziale adesso con il club. E non si abbatterà neanche lo spirito critico perché come sempre si può pensare quando si siglano questi accordi in qualche modo è come voler mettere eh a tacere un giornalista però lo ricordiamo noi siamo giornalisti dentro insomma una passione quindi lo spirito di critica non verrà mai meno nel nel nostro lavoro. Solo chi non ci conosce può dire una sciocchezza del del genere eh proprio dopo la partita che il Bari ha vinto con i città di Messina domenica eh c'è stato riconosciuto da persone all'interno della società di aver fatto la giusta analisi che non era quella di una bella partita ma quella di una brutta partita ma di tre punti preziosi. Quindi se la partita è brutta non potremo mai dire che che bella. Se dovremo dire eh qualcosa la diremo chiaramente con spirito costruttivo perché è il nostro interesse eh far crescere questa collaborazione con il Bari. E allora andiamo a vedere ehm ad ascoltare meglio l'intervista a mister Cornacchini e l'autore del gol dei Biancorossi Samuele Neglia interviste realizzate da Cristian Siciliani. Dall'immagine si è visto chiaramente il rigore è apparso molto molto generoso però resta quel regalo tra Marfella e Cacioli che ha di fatto condizionato quella che è stata la vostra partita e il buon primo tempo chiuso in vantaggio. Beh sono errori che purtroppo accadono non dovrebbero accadere ma è successo e bisogna andare avanti senza crearsi grossi grossi problemi. Abbiamo dobbiamo ripartire dalle cose buone che sono state fatte. Hanno giocato molto una squadra che dal punto di vista dell'impatto fisico era una squadra pronta. Abbiamo avuto secondo me diverse occasioni per poter chiuderla e non si è chiusa nel momento che non la chiude. È chiaro che con un piccolo errore mi sembra che è un'unica occasione per modo di dire insomma ci siamo stati noi ad averli regalato quindi e quindi mi ha pareggiato però. E comunque non è arrivata la vittoria un pareggio continua in ogni caso la striscia positiva mister questo è comunque importante. No è importante dare continuità ai risultati. Dobbiamo essere forse ancora un pochettino più più cattivi in tutte le situazioni di gioco. La Samuele Nellia purtroppo un gol che non è servito a portare a casa i tre punti c'è tanto tanto rammarico anche per poi come è andata questa partita Samuele. Sì purtroppo c'è la gioia personale per il fatto che sia ritornato al gol ma è una gioia a metà perché non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno quindi la gioia rimane a metà però per fortuna abbiamo un'altra partita tra tre giorni per rimetterci in marcia. Il senso mister Conachini ha detto dobbiamo essere comunque cattivi in campo a questo pareggio come lo leggi insomma sono sorta di premio di consolazione ci si è accontentati no? Non si è combattuto quella giusta grinta? Allora io devo sempre prendere esempio della Juventus che è una squadra che vince da sette anni lo scudetto e che ha sempre la stessa fame di vittoria. È chiaro che a volte la concentrazione non è a livelli massimi è successo proprio recentemente la Juventus in Champions contro il Manchester e col Genoa credo in campionato. Il Bari però non ha ancora vinto quello che ha vinto la Juventus dovrebbe migliorare in questo aspetto deve essere molto più maniacale nella ricerca della vittoria perché diciamo il campionato può perdere soltanto il Bari e prima facciamo a raggiungere l'obiettivo e meglio è. Quando si è in vantaggio su un campo difficile come quello del Castro Villari con una squadra in salute ha detto bene Cornacchini una squadra che stava bene fisicamente che devo dire ho molto apprezzato perché a differenza di altre squadre di questa categoria non si è soltanto difesa anzi ha sfidato il il Bari ho detto che il Castro Villari cercava il suo mercoledì da Leone e lo stava lo stava raggiungendo questo obiettivo però quando sei in vantaggio hai fatto il più praticamente devi cercare di portare a casa i tre punti il gol che ha subito il Bari purtroppo adesso non abbiamo ancora la possibilità di mostrarvelo però vi anticipo che eh questa sera uno spazio solitamente riservato al TV Sport manderemo la replica del novantunesimo minuto con eh la sintesi della partita del Bari il gol è stato come un regalo del Bari perché praticamente eh è stato confezionato il calcio di rigore da due giocatori bianco rossi Cacioli e il portiere Marfella era appena iniziato il secondo tempo evidentemente quell'episodio ha fatto prendere una piega diversa la partita e allora visto che siamo in chiusura di questo spazio Enzo vogliamo ricordare l'appuntamento con la diretta domani pomeriggio a partire dalle 17.30 in cui sveleremo i contenuti del dettaglio di questo accordo sì eh domani diretta dallo stadio San Nicola eh ovviamente ci saremo noi ci sarà eh la nostra direttrice Maddalina Mazzitelli e con accanto il presidente del Bari Luigi Luigi De Laurentiis in quell'occasione eh verranno svelati eh i dettagli di un accordo triennale lo ricordo e che avrà i suoi riflessi forti già dal prossimo fine settimana quindi contiamo davvero di ehm portarvi il Bari a casa insomma questo deve essere il nostro obiettivo perché ehm vi faremo conoscere molto da vicino i calciatori perché eh mi rendo conto che sono pochi sono famosi gli altri sono quasi sconosciuti eh vi daremo la possibilità anche di dialogare con con loro eh e di stabilire con loro un rapporto corretto e ripeto ancora una volta costruttivo perché questo è il senso dell'accordo. Conosceremo non solo i giocatori ma anche l'aspetto umano dei giocatori no? Soprattutto l'aspetto umano dei calciatori che è quello che ci sta più a cuore le storie i calciatori eh davanti a un microfono quando parlo di una partita sono più o meno tutti uguali poi eh li scopri fuori dal campo eh e conosci altri aspetti ad esempio eh faccio un esempio proprio al volo perché ha segnato il gol oggi eh Neglia. Neglia per quanto giochi al calcio ormai da tanti anni in giro è studia filosofia quindi un giocatore molto particolare non un unico universitario in assoluto ma eh io non ricordo eh tra quelli che ho conosciuto un calciatore eh che si è impegnato nel negli studi di filosofia. Ce n'era uno negli anni settanta si chiama Luciano Aprile del Matera ma ha fatto notizie quindi tanto di Cappella Alneglia quando l'ha detto al Bari a qualcuno del Bari anche loro erano completamente all'oscuro di questa inclinazione del del loro compagno di squadra quindi insomma vi faremo conoscere questi altri dettagli e altre curiosità. E allora ringraziamo Enzo Tamborra responsabile della redazione sportiva del Bari e noi andiamo avanti con il nostro telegiornale andiamo avanti con tre inchieste delle procure di Bari a Reggio Calabria e Catania che hanno svelato la mano delle della mafia dei clan sul sistema delle scommesse illegali. Questo sarà un tema di cui ci occuperemo anche nel nostro approfondimento intanto sentiamo il servizio di Roberto Manchi. Si gioca una schedina ci carichi 10 euro i soldi virtuali diventano regolari un'enorme lavatrice per i soldi della criminalità attraverso le scommesse sportive. Un'operazione antimafia che coinvolto non solo Bari e la Puglia ha portato nella notte all'emissione di 68 ordinanze di custodia cautelare 80 perquisizioni e un sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro partita da DDA e guardia di finanza con il coordinamento della direzione nazionale antimafia. Vito Martiradonna 70 anni conosciuto col soprannome di Vitine Lenel e tra gli esponenti di spicco del clan Capriati sarebbe il vertice di questa organizzazione che tra gli altri vedrebbe il coinvolgimento anche di Tommy Parisi 35enne cantante neomerodico figlio del boss Savinuccio di Antonio Buontempo 42 anni Giovanni Paolo Memola 39 anni e i figli di Martiradonna. Per questi è stato disposto l'arresto. Sulla se Capriati Parisi avevano creato un redditizio business in grado di movimentare oltre un miliardo di euro a colpi di click da Malta a Curaçao passando per le isole vergine le Seychelles per quella che era divenuta una vera multinazionale del gioco d'azzardo riferimento anche per organizzazioni criminali di altre regioni. Se una parte dei soldi spariva tramite le agenzie di scommesse online delocalizzate tra paradisi fiscali ed est Europa un'altra veniva reinvestita in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero intestati a prestanome ed è proprio da una delle intercettazioni raccolte dalle indagini che emerge la trasformazione delle politiche criminali dell'organizzazione mafiosa. Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali e tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così bam bam io cerco quelli che vanno così invece bim bim e click e click esno. Ma è normale, click e click esno è movimento extra. Ci occuperemo di questo tema lo faremo insieme all'avvocato Attilio Simeone consulente della consulta nazionale intusura insieme al presidente Monsignor D'Urso. Andiamo avanti il gruppo del tribunale di Bari Francesco Mattiace ha condannato la pena di otto anni e otto mesi di reclusione al pagamento di quaranta mila euro di multa il quarantunenne di eh modugno Michele Lambresa accusato di detenzione divulgazione di materiale pedo pornografico ad escamento corruzione di minori e violenza sessuale aveva creato differenti identità quella di Francesco Bo ragazzo innamorato e protettivo e Michi Lam uomo cattivo e aggressivo con una sorta di cinico gioco al rimbalzo di personalità si legge negli atti entrava in contatto con le ragazzine riuscendo a ottenerne l'incondizionata la fiducia stando alle indagini coordinate dal PM Simona Filoni Lambresa avrebbe inviato a decine di minorenni video nei quali si spogliava e compiva atti di autoerotismo si spacciava sui social network grazie a falsi profili per un loro coetaneo adolescente senza mai mostrare il volto convinceva in alcuni casi le vittime quindici quelle identificate a inviargli le loro foto intime in un caso avrebbe fisicamente abusato di una quattordicenne la sentenza è stata messa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato il ministro dell'interno Matteo Salvini interviene sulla questione sicurezza e libertà abbiamo il dovere di fare sempre di più e sempre meglio ma dal 9 agosto al 22 ottobre di quest'anno i reati nel quartiere libertà di Bari sono calati del 35 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017 lo ferma il ministro dell'interno Matteo Salvini dal 10 agosto al 22 ottobre scorso in arrivone del capologo pugliese sono stati intensificati gli sforzi delle forze dell'ordine 3.213 persone identificate 197 posti di blocco 1.195 veicoli controllati 32 esercizi pubblici setacciati 10 mezzi sequestrati 6 veicoli rubati e recuperati 414 controlli per gli arresti domiciliari non ci fermeremo qui intendiamo aumentare il controllo del territorio c'è un ministro dell'interno che non dimentica Bari e il quartiere libertà voglio mantenere le promesse correggendo anni di malgoverno del centro-sinistra così conclude il ministro Salvini e allora adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi tra poco torniamo con altre notizie eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale ripartiamo da una segnalazione arrivata da piazza Garibaldi piovono topi dagli alberi e la segnalazione è arrivata questa mattina da piazza Garibaldi noi siamo andati a verificare con le nostre telecamere guardate voi venite qui ogni giorno quali sono i problemi di questa piazza? problemi che stanno i topi quando fa il scudo e poi non c'è mai pulizia a terra il bagno poi è una vergogna fa paura andare nel bagno primi magari c'era un personale che veniva a scopare e che puliva e cose ma adesso non viene più nessuno c'è il bagnato da uomo però uno solo funziona e li tendono per andare le donne e i matri dentro un bagno non è giusto per le donne andare l'uomo e donna non è giusto è una cosa che a me non mi va ci chiamano in redazione per denunciare la presenza oramai intollerabile di topi ma a ben guardare una volta sul posto le lamentele sono molte di più parlano loro gli anziani del quartiere che in piazza garibaldi la centralissima piazza garibaldi passano le giornate a giocare a carte per ingannare il tempo piovono topi dagli alberi ci raccontano per poi denunciare la mancanza di polizia nella zona ma quello che più li fa infuriare la condizione dei bagni pubblici tutti rotti tranne uno che poi è quello utilizzato oramai sia dagli uomini che dalle donne intollerabile soprattutto per le signore e a microfoni spenti ci parlano anche delle continue vessazioni che sono costretti a subire da parti di gruppetti di ragazzini fuori controllo solo uno di loro alla fine si decide e racconta allora io che mi piace 82 anni che cosa posso fare un cerco di ragazzi di 13 12 14 anni vengono di dietro ti danno delle schiaffi ti spottano ti mettono i piedi davanti per farti cadere a te poi cercano in modo di venire anche che vogliono i soldi più pulizia quindi ma anche più controlli per un luogo come piazza garibaldi che è centro di aggregazione ma in cui rilassarsi diventa sempre più difficile in avanti con la cronaca per gravi deficienze nelle dotazioni di bordo e per le condizioni di vita igienico sanitarie dei 18 membri dell'equipaggio definite quasi disumane la guardia costiera ha disposto il blocco nel porto di bari del mercantile lucky brother battente bandiera della repubblica di palau è giunto nel capologo pugliese sabato scorso con un carico di 6.600 tonnellate di mais gli ispettori port state control della guardia costiera di bari su segnalazione della banca dati dell'agenzia europea per la sicurezza malittima hanno effettuato un controllo a bordo la guardia costiera ha accertato l'estrema precarietà strutturale igienico sanitaria dei locali destinati all'equipaggio composto da 18 uomini in maggioranza di nazionalità siriana costretti a condizioni di vita quasi disumane le cabine equipaggio i corridoi e l'infermeria sporchi e sudici nelle stesse condizioni erano materassi e cuscini la nave potrà ripartire solo dopo aver posto rimedio alle carenze reso più accettabili le condizioni dei locali di vita del dell'equipaggio si chiama rampe del sorriso e sono lo strumento per la promozione di uno shopping accessibile di un rivoluzionario welfare privato sentite il prototipo così come esibito oggi in conferenza stampa è stato costruito dai ragazzi dell'associazione help assistenza e tutela per tutti e dagli ospiti di villa ata palese nel laboratorio di falegnameria allestito nella struttura due pezzi facilmente maneggiabili e trasportabili che costituiscono però un'unica rivoluzione una rampa per persone in carrozzina da sistemare all'ingresso degli esercizi commerciali per rendere accessibile anche lo shopping e sono dodici in tutto le rampe del sorriso questo il loro nome che saranno presto consegnate ad altrettanti negozi per le altre si procederà invece su ordinazione ma la rivoluzione non è solo nell'oggetto ma soprattutto nell'idea le zanzare la cooperativa zero barriere l'associazione help creano così una forma alternativa di welfare quello privato che coinvolge imprenditori che credono nel progetto dare mano da maccomobili che dal prossimo dicembre devolverà parte dei propri incassi ai ragazzi all'azienda frezza legnami che fornisce gratuitamente la materia prima un'operazione a costo zero per la collettività e che garantisce al contempo una retribuzione economica ai lavoranti perché e il messaggio è anche questo la dignità lavorativa passa soprattutto dalla corresponsione di uno stipendio all'ingegner marco pellegrini del rotary club di bari infine l'onere della installazione delle rampe tutti i dettagli nell'intervista ad alessandro antonacci dell'associazione le zanzare questi ragazzi sono stati formati già per l'assistenza ai disabili sportivi quindi e ora stanno facendo formazione e lavoro quindi loro produrranno delle rampette che daranno accessibilità a tutti i negozi di bari non abbiamo inciso per nulla sulle casse del comune di bari abbiamo fatto inclusione sociale abbattimento di barriere e soprattutto grazie a frezza legnami lo devo dire che ha donato e continua a donare tutto il legname che dovrebbe essere smaltito legname che se dovessi acquistarlo alla fonte costerebbe anche un bel po al metro quadro noi recuperiamo il materiale che frezza legnami dovrà smaltire per costruire queste rampe la giunta del comune di bari ha approvato due delibere sugli accordi quadro di durata biennale per interventi di manutenzione salvaguardia e riqualificazione delle alberature del verde cittadino gli interventi per un importo complessivo di un milione di euro per i prossimi due anni riguarderanno la vegetazione presente in tutta la città tra cui le aree attrezzate a perdere di recente realizzazione non inclusa nel contratto della bari multiservizi spa abbiamo scelto lo strumento giuridico dell'accordo quadro che garantisce la massima flessibilità e al contempo assicura significativi benefici in termini di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa spiegato all'assessore lavori pubblici giuseppe galasso non che maggiore trasparenza nelle procedure d'appalto a quasi un anno dall'avvio del porta a porta nel quartiere san cataldo di bari ieri nel salone parrocchiale della chiesa di quartiere si è tenuto un incontro con l'assessore pietro petruzzelli presidente della mio bari sabino persichella e il presidente del municipio massimiliano spizzico e allora i residenti hanno potuto sottoporre criticità e anche qualche dubbio sul servizio andate a reggime sentite a quasi un anno dall'avvio del progetto di porta a porta san cataldo nel pomeriggio di ieri l'associazione residenti di quartiere si è riunita presso la sala parrocchiale della chiesa per tracciare un bilancio dell'iniziativa siamo ancora in fase di rodaggio e la porta a porta è stata recepita di più per i residenti più attenti che hanno partecipato ai nostri incontri che hanno seguito insomma dei consigli però c'è sempre qualcuno un po restio che spero che insomma con questo ulteriore appello si convinca che è importante fare diciamo partecipare a questo progetto all'incontro presenti anche l'assessore pietro petruzzelli e il presidente ami ubari sabino persichella ai quali residenti hanno potuto sottoporre alcune perplessità e criticità sul servizio offerto nel nostro quartiere abbiamo dei problemi climatici innanzitutto perché siamo soggetti a forti maestrali e quindi siccome i cassonetti di una volta erano grandi e pesanti quelli di adesso sono più piccoli più leggeri qualche volta svolazzano creando forse ancora più danni perché si riversano a terra con tutta l'immondizia ancora migrazioni esterne rifiuti abbandonati agli angoli delle strade sono i problemi principali sorti nel dibattito tuttavia come ha spiegato lo stesso petruzzelli il quartiere san cataldo insieme a san girola a moefesca registra una percentuale di raccolta differenziata pari al 78 per cento grazie soprattutto alla risposta positiva dei residenti di quartiere in linea con quanto accaduto in altre zone della città dove il nuovo servizio è stato introdotto e parliamo di maltempo perché l'estate di san martino ci sta ormai salutando a quanto pare nel weekend arriverà l'inverno a partire da venerdì si abbatterà sulla regione una data di aria fredda proveniente dalla russia venti forti d'agricale piogge mare in burrasca eh previsto un abbattimento termico con temperature eh che ehm si abbasseranno di almeno sette otto gradi e siamo al calcio il barri porta a casa un pareggio e un punto è finita uno a uno al mimo rende di Castrovillari ascoltiamo le interviste a mister Cornacchini l'autore del gol per i biancorossi Samuele Neglia Dalle immagini si è visto chiaramente il regore è apparso molto molto generoso però resta quel regalo tra Marfella poi e Cacioli che ha di fatto condizionato quella che è stata la vostra partita e il buon primo tempo chiuso in vantaggio Beh sono errori che purtroppo accadono non dovrebbero accadere ma eh è successo e bisogna andare avanti senza crearsi grossi grossi problemi abbiamo dobbiamo ripartire dalle cose buone che sono state fatte abbiamo giocato con una squadra che dal punto di vista dell'impatto fisico era una squadra pronta abbiamo avuto secondo me diverse occasioni per poter chiuderla e non si è chiusa nel momento che non la chiude è chiaro che con un piccolo errore mi sembra che è l'unica occasione per modo di dire insomma ci sono stati noi ad averli regalato quindi e quindi abbiamo pareggiato però e comunque non è arrivata la vittoria un pareggio continua in ogni caso la striscia positiva mister questo è comunque importante no è importante dare continuità dei risultati dobbiamo essere forse ancora un pochettino più più cattivi in tutte le situazioni di gioco la Samuele neglia purtroppo un gol che non è servito a portare a casa i tre punti c'è tanto tanto ramarico anche per poi come è andata questa partita Samuele sì purtroppo c'è la gioia personale per per il fatto che sia ritornato al gol ma è una gioia a metà perché non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno e quindi la gioia rimane a metà però per fortuna abbiamo un'altra partita tra tre giorni per ecco rimetterci in marcia bene siamo in chiusura di questo telegiornale ma restate con noi perché tra poco torniamo con l'approfondimento parleremo del l'inchiesta che ha svelato il controllo da parte delle organizzazioni criminali del sistema delle scommesse online e ne parliamo con l'avvocato Attilio Simeone consulente della consulta nazionale con l'intisura e con il presidente della consulta monsignor alberto d'urso tra poco ben trovati da nicos di tre di meteo giornata di giovedì che vedrà sempre questo campo anticiclonico mantenere i suoi massimi tra italia e germania ma così come buona parte dei paesi orientali del vecchio continente e quindi perturbazioni che se ne rimarranno qui più ad ovest sulla spagna da noi il clima nel complesso asciutto una nuova giornata stabile su tutte le regioni la prossima grafica della nuvolosità ci evidenza questa bella giornata con ampie aperture del cielo sulle due isole maggiori buona parte anche del centro sud vi segnalo solamente con la prossima grafica al nord la formazione sempre nottetempo di qualche locale foschia densa o nebbia però diciamo inizieranno a dissolversi rispetto alla giornata di mercoledì quindi maggiori occhiate di sole temperature miti mentre vi preannuncio nel weekend l'arrivo di aria fredda da nord est dettagli ulteriori sull'app gratuita 3b meteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti